Grazie di essere venuti, grazie, questo ci comporta sempre la vostra presenza. Questa mostra che noi abbiamo questa sera presentiamo funziona così la serata. Noi adesso saliamo, nella hall dell'associazione ci sono delle ragazze che faranno una piccola performance. Finita la performance ci sarà la visita alla mostra che sta lì comunque e dopo le ragazze vanno in una sala, finita la visita della mostra, le sale si riaprono e le ragazze fanno ancora delle piccole cose dentro la sala e dopo ci spostiamo in un'altra sala dove c'è un piccolo aperitino. Ecco, questa è l'essenza della serata. Il significato della hall è un po' quello che accade in un luogo dove si studia danza prima di entrare nella sala, cioè quello che fanno i ragazzi che normalmente più grandi li trovi lì, che magari fanno un po' di stretching, fanno un po' di riscaldamento. Questa è una cosa molto quotidiana, è un po' il quotidiano di un luogo dove si studia danza. Quello che accade nelle sale è il quotidiano di quello che accade dentro una sala di danza quotidianamente, sempre il quotidiano diciamo, e quello, il senso della mostra che è una piccola cosa ovviamente, noi siamo una piccola associazione, facciamo piccole cose, cerchiamo di farle con un certo criterio, con tanto amore prima di tutto, con tanta passione e tanta amore. È un po' il significato di portare, normalmente la danza sta dentro le mostre, se voi ci fate caso, noi stessi siamo stati in una, mi sembra l'età delle pavole antiche, abbiamo fatto delle perle, insomma, e anche altre cose. Però portare una mostra nel luogo dove si fa danza è una cosa abbastanza inusuale, e questo già è una piccola rottura. L'altro aspetto che volevamo sottolineare era, oggi noi viviamo in una società dove veramente siamo bombardati dalle immagini, spesso ci passano alla velocità e magari sono quelle immagini piccolissime, quindi riscoprire un po' il piacere di guardare una bella immagine di danza in questo caso. E in questo voglio ringraziare Samuele, che è questo giovanotto qua. E' un ragazzo, come potete vedere, è veramente un ragazzo, però ha un bel tocco sulla danza, insomma, sulla foto di danza che sa fare, e quindi noi abbiamo, perché è una cosa nata anche un po' casualmente, nel senso che lui ha cominciato a fare delle foto, noi abbiamo visto che queste foto erano interessanti, noi abbiamo avuto un po' in tutto questo episodio, abbiamo avuto semplicemente un ruolo di, come dire, di ostetici, abbiamo contribuito alla nascita di questa cosa, non è che abbiamo forzato la mano, siamo stati molto delicati e abbiamo fatto in modo che le cose accadesse. L'ultima cosa che voglio sottolineare sono i luoghi, sono i luoghi che noi viviamo quotidianamente, spesso non ce ne rendiamo voi, qui è un po' anche l'idea di dare al quotidiano nostro, come cittadini di questa città soprattutto, vedere un luogo da un altro punto di vista, che ci dà un segnale di una cosa che normalmente noi non facciamo. Sono tanti piccoli, come ho detto, sono tanti piccoli segnali, ma non abbiamo l'arroganza o la supponenza di dire abbiamo risolto, noi diciamo ci comportiamo come Hansel e Gretel, noi abbiamo una favola, lasciamo delle briciole e speriamo che qualcuno le raccolta. Un segnale interessante che almeno noi abbiamo pensato molto è stato il riconoscimento del sindaco che ha detto che gli piaceva questa cosa e questa sera la signora consigliera comunale a Montè è venuta a trovarci e quindi abbiamo il comune. In questa manifestazione posso dire che abbiamo il comune accanto? Sì sì, assolutamente. Quindi se lei vuole fare un saluto o almeno ci fa un saluto? Penso che lei abbia già detto molte cose assolutamente interessanti che ci introducono a questa serata. Io vorrei sottolineare tre parole che ho trovato nei vostri elementi conoscitivi e così visitando un po' il sito e cioè la fatica, la condivisione, l'equilibrio. Credo che proprio la scuola di danza sia maestra in queste tre direttrici. Queste tre direttrici che nella nostra società civile, nella nostra Perugia, ne abbiamo molto bisogno. E quindi con estremo piacere sono qui a portare i saluti del nostro sindaco Andrea e siamo curiosi di vedere queste belle foto. Ho visto qualche piccolo accenno, ma insomma, i complimenti. Samuele ha detto che parleranno le foto per me. Faccio i complimenti solo perché hai usato e questo è già fatto. Veramente bravo. Grazie. Grazie.